Bella a tutti da Porcomods, eccoci qua in questa nuova gara, questa gara è stata creata da Daniele Pereto Dove stanno gli altri? Vi lascio il suo canale in descrizione Perché ha avviato la gara a Daniele, guardate in che posizione parto, ultimi Andiamo, 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 il parkour l'ha creato anche perché appena pubblicato questa gara, regà Andiamo, è freschissimo questa gara, ultra fresca Che macchina, ok Come si chiama il parkour? Ah, Parkour of the Week numero 4 Oddio, oddio, belli veloci Il problema di lasciare in descrizione l'attività di Daniele è che io vi lascio in descrizione Un'attività che ogni settimana viene aggiornata Ma, come ti chiami, come ti chiami? Abouanash, non ha già te sui, eh Andiamo, andiamo, non so sui, perché Daniele ha invitato anche gente che non conosco, ma non fa niente Guardalo che va a lungo da solo Via, 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 queste curvite, regà Al sui non gli piacciono, eh Ah, Pettis, cioè Come stai sui, che ha un'attività, un'attività Pettis è fortissimo, un IGP Quindi È venuta una bella sfida, vuol quanto scivola sta macchina Occhio Pettis, va, attenzione Aiuto, facciamo un po' il gas Oh, l'ergo, ci siamo qua Possiamo anche tagliare così Colpetto di freno qui Che è questa curvita, regà, è terribile Ci ho fatto un po' di IGP in questo punto della mappa, regà È veramente pericoloso Andiamo Freniamo leggermente Oh, poi si può andare veloci, sì, sì Andiamo, andiamo, ecco lì Ah, ora può riferire da me lì Frena Ok, qui Però seguiamo tranquillamente, intanto siamo qui Mamma mia, regà Questa macchina ha bisogno di andare piano, eh Perché scivola tantissimo Qui possiamo andare più veloci Qua freniamo un bel po' E poi facciamo così Ok, ok Ci è andata bene, regà Perfetto così Che c'è qua? Uno è tutto Perché c'è una macchina già E uno fluido Quindi per forza Vediamo lì o dove? Non lo so Non ti diamo Il primero dei primeri Vorrei sapere chi è Oggi corrono tutti quanti Via, via Oh, frena, frena, frena Zitti che siamo vivi Andiamo, andiamo Chi era il primero? Alberto Qui Ci siamo arrivati Perfetto così Terzi Ma sai che Alberto è cascato, sì Sì, sì Ok, andiamo piano Perfetto così Salto Come sta? Ma che ti dici? Salto Proseguiamo Il creatore dove è Daniele Pareto V Andiamo, andiamo È datto adesso il primero Sì, sì Però se Uh, ok, ok Ho frena Possibile giocare insieme Oddio, oddio Non ho un miseria Che parti gigante Spettacolare Guardiamo La macchina Sembra che sta ferma Comunque Perché questa parte È invisibile Questo è l'accessorio Più grande Di GTA Online L'accessorio Mi ho dato Più gigantesco Gigante Aiuto, aiuto Ci siamo È qui Che meraviglia Che spettacolo No, no, no Questo si può fare a cambio Aspettate Vediamo Ho visto che sono un po' di rubetti Sì, sì, sì Si può fare così Allora Andiamo qui E anche qui La stessa cosa Però mi ho fatto Attenzione Ok, ci siamo E anche lì Però ho messo una battiera Qui Aspettate Sì, sì, sì Questo ci dovrebbe dare una mano Ci dovrebbe Dare una mano E ci siamo Rega, ma Fantastica Questa parte Che mi è sottile Allora Noi proseguiamo Tranquillamente Che facciamo attenzione Oh Rega Barcollo La visuale è lontanissima Fantastica Però Dobbiamo fare veramente Attenzione Allora Rega Andiamo piano Ok C'è un po' d'ansia oggi Perfetto Così Aspettate tranquilli Sì, sì Allora C'è un bel drift Senza fare manovre Ci siamo Ci siamo Perfetto Oh mio Dio Questa cosa sia a cascare Ok Perdi qua Perché l'ha messo Quell'accessorio Che Sinceramente Non ho capito È un accessorio arena Quello là Rega Quel barile metallico Ma credo che sia Per la scossa Ok Perfetto Così Donnerino Rote bugate Oh che spettacolo Rega Aspettate Qua è pericoloso Da quanto tempo Che Non trovavo Quest'accessorio Con le ruote bugate Che poi Se vi ricordate Io ci avevo fatto Un far curito Con una mega rampa Rega Era minuscolo Quel far curito A parte che Mo' devo creare Qualche garetta Che da tanto Che non crea una garetta E ce la fa un costo A salire Sì, sì Anche con le ruote Bugate Rega Vada Dio Questa macchina Ok Cosa Cosa c'è Daniele Ma non c'è A parte troll Perché non andava Non lo so Credo che È bassissima Quindi sbatti Da qualche parte Ok Ci siamo Perfetto Così saremo Quarica pieno Pieno Ok Rote sottotate Eh no Daniele Nemmeno un cec Che mi metti Dovrebbe essere facile Mamma mia Aspettate Questo sembra Che va più lento Un po' di rincorsa Fino a qua Posso andare Sì Aspettate Via 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 Mamma mia Rega Qua è estremo Ok 5 minuti Parcurito Ma è finito Non lo so Perché non vedo più niente Ok Ci siamo Faccio Attenzione Qui Perfetto Ci siamo 6 minuti Di parkour Adesso 6 minuti C'è che l'abbiamo preso Vero Cosa Però I noob Come via Cosa Ho messo qua Che meraviglia Aspettate Piano 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 Su Aiuto Che le rovi Sono bugate Perfetto Stare C'è Strasis Tutto Ok Radar Radar Finale Andiamo da questa parte Frena Dovrebbe essere facile No Forse ce la facevo No È facile È facile Però guardate qua Cosa abbiamo Pro È Noob Aspettate che Voglio respawnare Così almeno Ci abbiamo La macchina Bella Nuova Che dite Allora Abbiamo Questa Redo Che c'è Un spazio Per qualche Miniatura Ma come Invece la situation Secondo Danielino Dove sta Sta lontano Credo che sta Arrivando Comunque Intanto Vediamo Queste vie No Aspettate Ah Quando Premo start Si eleva La miniatura Guardate che Bella La miniatura Qui Ok Stoppiamo Noi ovviamente Andiamo Dalla parte Noob No No Aspettate Andiamo Dalla parte Pro Cosa c'è Qui Che poi Sono due Scatole Segreti Che c'è Cosa Daniele Questa sarebbe La parte Pro Scusate Che non ho capito Noi dobbiamo Andare Dalla parte Noob Ma io Non ce l'ho Io credo Aspettate Un attimo Ok Vediamo Davo Non ce l'ho Io crede Abbiamo vinto Con la parte Noob Comunque sia Gara Veramente Fantastica Se vi è piaciuto Il parkurito Di Daniele Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale Passate su tutti i canali Che torna in descrizione E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella Ciao